Oggi parleremo delle regole che controllano il funzionamento di un transistor bipolare quindi vedremo quali sono le relazioni da tenere in considerazione vedete che sono veramente poche, basta ricordarsi queste semplici regolette per poter arrangiarsi e andare a dimensionare i vostri circuiti iniziamo subito prima di vedere qualche esempio pratico è necessario parlare di alcune formule che riguardano i transistor prenderò come esempio un transistor NPN per un transistor NPN, quindi questi sono i terminali collettore, emettitore e base abbiamo una serie di regole o condizioni da rispettare la prima è che VCI deve essere maggiore di VE quindi la tensione del collettore deve essere maggiore di quella dell'emettitore di qualche decimo di volta almeno altrimenti il transistor non può funzionare correttamente e la corrente non può trascorrere tra il collettore e l'emettitore la seconda condizione è quella che tra la base e l'emettitore dove abbiamo una giunzione PN, quindi dove c'è la freccetta ci siano almeno 0,6 volt quindi possiamo dire che VB deve essere maggiore di 0,6 volt rispetto all'emettitore possiamo ricordarci che c'è una piccola freccetta qua con scritto 0,6 volt per fare poi i calcoli con il transistor si utilizzano alcune semplicissime formule la prima è questa qua, quindi mettiamo punto 3 che dice che la IC, quindi la corrente del collettore quella che scorre qui, IC è uguale a beta per IB il beta è un parametro che esprime quanto è il guadagno di corrente del transistor sui datasheet non troviamo il beta ma troviamo quello che viene chiamato l'HFE e si può assumere che il beta è pressoché identico ad HFE quindi sono più o meno la stessa cosa il problema è che questo parametro, questo beta varia in un range veramente impressionante anche per lo stesso tipo o la stessa famiglia di transistor per esempio per il 2N2222 può andare da 30 a forse 300 unità anche nello stesso lotto di transistor quindi è molto problematico poi vedremo come eventualmente tamponare questi effetti quindi nella condizione in cui la 1 e la 2 il punto 1 e il punto 2 sono verificate dovremmo trovare per esempio che se il nostro beta vale 100 e mi trovo una corrente di base di 1 mA dovrei trovarmi una corrente di collettore di circa 100 mA infine abbiamo l'ultimo punto quindi con il quarto punto diciamo che la IDCI possiamo considerarla praticamente uguale alla I dell'emettitore anche perché la corrente di base è solitamente molto bassa e quindi possiamo considerarle quasi identiche con questi quattro punti possiamo andare a fare dei calcoli per capire effettivamente come funziona un transistor prima di utilizzarlo è sempre bene andare a vedere sul datasheet e controllare quali sono i valori massimi di funzionamento per esempio la IC, la corrente di collettore ha un IC max che troviamo nel datasheet ora andremo a vederlo che dice qual è la massima corrente che il transistor può supportare altrimenti si danneggia in modo irreparabile stesso modo abbiamo una VCE0 quindi la tensione tra collettore e emettitore che per alcuni modelli può arrivare a 50-100 volte superando questi valori danneggeremo il componente per il transistor 2N2222 andiamo a vedere il datasheet questo è molto semplificato tant'è che non troviamo neppure i grafici quindi le caratteristiche di funzionamento riporta solo il tipo di transistor quindi il package la denominazione dei piedini e troviamo qua i valori massimi che il transistor può assumere per la VCE quindi 30V qui indicano anche la tensione tra collettore base e la tensione tra emettitore base quindi 65V la IC massima è di 800mA quindi quasi 1A bisogna stare sotto troviamo anche la massima dissipazione di potenza in vari casi a seconda della temperatura e delle correnti applicate se scorriamo possiamo andare a trovare il beta eccolo qua DC Current Gain HFE quindi non lo riportano mai come beta ma sempre come HFE e qui abbiamo varie condizioni operative a seconda della corrente e della tensione tra collettore e emettitore a vari valori e come potete vedere varia tra qualche decina di unità fino a 300 come valore massimo ed è imprevedibile il beta tra l'altro dipende fortemente anche dalla temperatura di lavoro quindi a seconda delle condizioni operative potrebbe variare più o meno a caso in questo range se scorriamo purtroppo non troviamo le caratteristiche se andiamo a cercare un altro datasheet il modello è leggermente diverso perché è un 2N2222A il case vedete è in plastica non è in metallo come quell'altro i valori sono più o meno identici se andate a controllare vi danno una VCE di 40 VCB di 75 la corrente è un po' inferiore appunto perché è il case in plastica qua troviamo scendendo DC Current Gain quindi HFE che varia tra qualche decina centinaia di punti fino a 300 scorrendo qui troviamo anche dei grafici che riportano le caratteristiche di funzionamento qui abbiamo il legame tra il beta il guadagno di corrente e la corrente di collettore ci sono varie curve che dipendono appunto dalla temperatura di funzionamento il famoso grafico quello che vi ho fatto vedere l'altra volta qui lo troviamo ma in una forma diversa perché riporta dalla parte la corrente di base qui sotto in ascista in ordinata abbiamo la VCE e le varie curve dipendono dalla corrente di collettore impostata quindi di volta in volta dovete un po' ingegnarvi e capire uno qual è il grafico di curve che vi interessa e poi anche come usarlo perché potreste trovare i vari parametri in vari punti a seconda di chi ha fatto il grafico comunque meno male vi danno un'idea di come questo può funzionare ne troviamo poi altri che vanno a rappresentare altre caratteristiche utili per fare dei calcoli solitamente noi cerchiamo questo per determinare il funzionamento per oggi è tutto il video termina qui come avete visto le regole sono molto semplici basta che ve le teniate a mente quando utilizzate un transistor vedrete che non avrete mai problemi vanno eventualmente combinate poi con i datasheet vedremo magari in un video futuro come mettere insieme le cose per riuscire a progettare dei circuiti a transistor senza problemi bene vi ringrazio vi saluto ci vediamo domani ciao ciao